siamo al termine di san filippo neri pisana terminata 3 a 0 proprio per la pisana siamo qui con giuliani un commento sulla partita sempre in controllo alla fine l'ha portata a casa e non subite neanche gol si sempre in controllo ovvero fino a un certo punto perché il san filippo neri a inizio a inizio primo tempo ci ha messo in difficoltà diverse volte abbiamo già visto che questo campionato difficile non è un campionato semplice questa partita ce l'ha dimostrato perché il risultato se vogliamo anche un po bugiardo perché si controlliamo però qualche occasione questa per voi la terza vittoria di fila in campionato dopo le prime due sconfitte la sensazione che state ingranando ti chiedo cosa è cambiato sono dei cos'è che sta funzionando di più adesso sicuramente abbiamo stiamo ruotando la squadra quindi finita la fase di studio finita finita le prime partite per rimettere in modo le gambe adesso stiamo cominciando andando bene questo è quello che per noi dovrebbe essere la norma grazie